prende forma l'azienda sanitaria le linee del direttore storti delitto sirolo l'arrestato dichiara di aver agito per difendersi vandali nelle scuole denunciati 4 14 anni a pantano si è chiusa pesaro tra borghi e quartieri festival gad ecco le otto compagnie finaliste una buona serata a tutti voi amiche amici telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il telegiornale delle canale 80 che in questa edizione di martedì 29 di agosto apriamo occupandoci di sanità lo facciamo attraverso una intervista alla dottoressa nadia storti che da luglio è il nuovo direttore generale della neonata azienda sanitaria territoriale di pesaro urbino dottoressa nadia storti da luglio è direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale di pesaro urbino che in realtà sta trovando anche alla luce della fase di trasformazione che sta vivendo sia la struttura che di fatto è nuova di questo 2023 sia il fatto che ci troviamo in una provincia che dovrà convivere con diversi traslochi diverse trasformazioni di nuovi spazi ospedalieri allora ho trovato un sistema sanitario molto all'avanguardia e molto sviluppato è chiaro che qui si tratta di mettere insieme due realtà completamente diverse un'azienda ospedaliera centralizzata prevalentemente sulla terapia dell'acuzia e un'azienda territoriale dove invece era più orientata sulle piccole patologie e sulle parti di prevenzione di salute mentale e delle tossicodipendenze ora dobbiamo mettere insieme questi due sistemi credo che sia un miglioramento per tutti perché contaminarsi tra quello che è la parte ospedaliere e la parte territoriale è un beneficio di cui ne trarranno sia i professionisti che naturalmente la popolazione c'è molto da fare ma ho trovato una grande disponibilità da parte dei medici di tutto il personale infermeristico compreso la parte amministrativa che sembra in secondo piano in realtà quella che deve fondersi ancora di più rispetto all'istruttore ospedaliere ci sono grossi progetti, palazzine nuove degli ospedali un ospedale nuovo da realizzare, trasferimenti da fare io come mia abitudine intanto non conosco perfettamente la realtà pesarese perché ho girato tutta la regione Marche mi mancava la provincia di Pesaro e sono contenta di conoscere anche questa meravigliosa provincia dove si vive molto bene tra l'altro quindi la prima cosa è quello di studiare la situazione sto facendo una serie di incontri tecnici soprattutto con i professionisti perché io ritengo che nessun direttore sia così illuminato da poter prendere decisioni da sole le mie decisioni saranno condivise con tutti gli operatori quindi sono nella fase di studio parto dai dati di fabbisogno di sanità della popolazione dai dati di attività, da quelle che sono le caratteristiche delle strutture e spero nel giro di poco tempo di avere un quadro preciso per poter prendere poi delle decisioni in questo momento non sono state prese perché vanno valutate attentamente perché qualsiasi decisione può essere corretta o può essere sbagliata quindi cerchiamo di fare i meno errori possibili C'è poi questa fase sempre più impellente della ricerca di nuovi spazi alla luce del trasferimento dell'ospedale di Muraglia che vi vede lavorare a braccetto con la regione Marche come sta andando da questo punto di vista la ricerca di nuovi spazi? Sta andando bene perché la procedura di gara della quale naturalmente io conoscerò gli esiti solamente alla fine la procedura di gara sta andando avanti abbiamo delle risposte, stiamo analizzando il meglio e credo che siamo in grado di rispettare i tempi previsti L'indirizzo è quello di trovare la soluzione meno impattante sia per i bisogni dei medici che per quello dei pazienti Esatto, esatto Ed ora torniamo ad occuparci del delitto di Sirolo ha dichiarato di non aver voluto sparare di non essersi reso conto che fosse partito un colpo e di aver preso quel fucile subacqueo con l'intenzione di difendersi dal tentativo di aggressione parole di Fatame Lul, 27enne algerino residente a Iesi e ora recluso nel carcere di Montacuto dove deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi ai danni del 23enne albanese residente ad Ancona Clyde Ibitri intervenuto a Sirolo con altre due persone in difesa di un conoscente che sarebbe stato aggredito in strada da Mellul in seguito ad un diverbio in auto su questioni di viabilità Bitri è stato trafitto montalmente dal colpo di Fiocina e ora si attendono i risultati dell'autopsia E torniamo su Pesaro Ancora vandalismi nelle scuole cittadine questa volta però sono stati rintracciati e denunciati i responsabili che hanno appena 14 anni Quattro minorenni pesaresi fra i 14 e i 15 anni sono stati individuati dalla polizia e denunciati per danneggiamenti alla procura dei minori di Ancona in seguito ad episodi di vandalismo alle scuole pesaresi Sono stati incastrati da un residente di Pantano che li ha visti e fotografati domenica sera mentre facevano irruzione alla scuola Brancati La volante della polizia subito allertata è arrivata nell'istituto di Viala Marmora e ha rilevato segni di effrazione e lo svuotamento di un estintore nell'aula d'arte Sono stati rintracciati e riconosciuti in zona muraglia mentre erano in sella alle loro biciclette Poco lontano è stato rilevato anche un analogo atto vandalico alla scuola Leopardi di Monte Granaro dove nella stessa domenica sera in alcune aule si è registrata una simile irruzione con svuotamento di estintori Le indagini stanno vagliando se i quattro minori appena imputabili siano responsabili anche di questo episodio al quale se ne accoda un terzo di meno di una settimana fa quando alla scuola Chiara Lubic di Largo Baccelli l'irruzione con apertura di estintori fu addirittura preceduta dall'appiccamento di diversi eroghi all'interno dell'istituto di Pantano Resta la mare in bocca sicuramente vista la teneretà degli attori di questi atti vandalici che non vorrei chiamarli baby vandali come ho letto in alcuni titoli dei giornali in queste mattine ma semplicemente dei ragazzini che utilizzano male il proprio tempo come servizi educativi come servizi delle politiche giovanili siamo già in contatto con alcuni gruppi informali di ragazzi e di adolescenti questi ragazzi hanno 14-15 anni mi pare di capire e sono appunto giovanissimi molto spesso si parla di disagio di quello che le nuove generazioni non sono in grado di fare io penso che la responsabilità di noi adulti sia molto importante se un gruppo di ragazzini pensa di andare a deturpare una scuola un bene comune il simbolo di quella che dovrebbe essere l'inclusione lascia una grande tristezza e noi adulti dobbiamo intervenire intervenire con delle azioni di supporto anche se vogliamo educative da parte di chi questa attenzione al bene comune non ha e la tempistica, il tempismo è importantissimo ringrazio i vicini come sempre la rete di vicinato che aiuta l'amministrazione a controllare le scuole e altri beni pubblici e anche le forze dell'ordine che sono subito intervenute di fronte alla segnalazione io spero che sia l'ultimo atto di una storia abbastanza triste che ha accompagnato queste giornate prima dell'inizio della scuola e che poi della scuola si possa parlare soltanto in termini positivi un operaio pluripregiudicato di 47 anni ha tentato di compiere due furti in altrettante aziende di Villa Fastigi è accaduto lo scorso giovedì e nel primo tentativo è stato messo in fuga dall'arrivo del titolare mentre nel secondo caso è stato notato dai residenti che l'hanno visto oscurare le telecamere e scardinare una porta d'accesso è però subito scattata la chiamata ai carabinieri che l'hanno rintracciato e denunciato per tentato furto attimi turbolenti ieri sera a Villa San Martino in via Ponchielli quando polizia, carabinieri e polizia locale sono intervenuti per sedare un parapiglia creatosi quando due donne straniere in compagnia di una bambina hanno tentato di andarsene senza pagare dopo una cena al vicino ristorante Wikisushi è partito un inseguimento dei titolari con le due donne che si sono buttate a terra simulando un'aggressione è allora partito anche l'intervento congiunto delle forze dell'ordine e ringraziamo Max, nostro telespettatore che ci ha inviato foto per documentare l'accaduto ancora immagini di altri telespettatori che ringraziamo che riguardano un incidente stradale avvenuto questa mattina in Viale Napoli zona Porto di Pesaro dove una donna alla guida di una Lancia Y ha perso il controllo della vettura tamponando alcune auto in sosta sul posto l'ambulanza per accertamenti che hanno rilevato soltanto ferite lievi nel ricco cartellone di eventi estivi pesaresi hanno sicuramente avuto spazio di rilievo anche le iniziative nei vari quartieri vi mostriamo in tal senso le immagini della festa conclusiva tenutasi al parco Trulla di Pantano ieri sera per quello che riguarda la rassegna Pesaro tra borghi e quartiere Aver potuto riqualificare questo parco dargli questa nuova veste è qualcosa di meraviglioso perché è un parco completo dove c'è tutto cioè puoi divertirsi il bambino, l'adulto e ci può anche essere la persona che porta il suo animale a nello sgambatoio quindi direi che più di così non si poteva fare e stasera chiudiamo una rassegna che è Pesaro, una capitale tra borghi e quartieri un'idea di Daniele Vimini l'assessore alla bellezza che io ringrazio per tutto perché lui è una fonte di idee e poi permettimi ringrazio anche Monica Norito che ci ha coordinato in tutti questi eventi che ci sono stati in tutti i 13 quartieri aggiungo il tredicesimo che sarebbe il municipio di Monteciccardo sta venendo fuori qualcosa credo di speciale e permettimi anche di ringraziare Gio Castellani con la sua band che ci porterà così la musica d'autore e a Pantano che non è cosa da poco è un progetto che ha funzionato devo dire la grande partecipazione ma anche costanza dei quartieri e qui questa sera siamo a Pantano appunto per festeggiare loro per tutto il grande lavoro che hanno messo in campo perché comunque è un impegno ricordo sempre che i presidenti di quartieri e i consigli di quartieri sono dei volontari che si sono messi a disposizione sono stati votati dai cittadini e quindi meritano un grandissimo applauso per il lavoro che svolgono ogni giorno a servizio perché poi sono il primo filtro e insieme ai cittadini costruiscono gli eventi nella nostra città l'evento è importante io ci tengo molto poi a questa iniziativa che oggi vede la conclusione con questo momento perché sono stato presidente del quartiere ed ero presidente quando è nato tra borghe e quartieri quindi era un modo per dare spazio ai quartieri non solo per fare eventi nei quartieri ma anche dove i consigli di quartiere erano protagonisti e sceglievano questo è molto importante crediamo molto proprio anche io personalmente per il mio trascorso e il mio vissuto bisogna dare la parola ai territori e restando in tema di eventi culturali partirà invece il 16 ottobre la 76esima edizione del Festival Nazionale di Arte Drammatica GAD sono state svelate questa mattina le otto compagnie teatrali che vi prenderanno parte sono state svelate questa mattina le otto compagnie che dal 16 al 29 ottobre 2023 saliranno sul rinomato palco del Teatro Rossini in occasione della 76esima edizione del Festival GAD un cartellone prestigioso che sarà composto dalle otto compagnie teatrali selezionate sulle 117 totali che hanno presentato domanda confermando una ricca varietà di proposte e un coinvolgimento da nord a sud di tutta l'Italia del teatro non professionistico le compagnie si alternano fra i grandi ritorni e chi debutta a Pesaro partiamo con il Teatro Villaggio Indipendente di Torino una compagnia che più volte è stata a Pesaro più volte ha vinto che porta in scena 9 giorni di Massimiliano Giacometti poi la compagnia Teatro Avalon di Battipaglia con Così è se vi pare di Luigi Pirandello poi la Corte dei Folli di Fossano che presenta Nel nome del padre di Luigi Lunari le note di teatro di Gualdo Tadino con Copenaghen di Michael Frame Futura Teatro di Firenze che porta in scena una commedia divertentissima prestazione occasionale di Francesco Brandi poi Ramaiolo in scena di Imperia che ancora porta in scena una grande commedia fanno in mani di Ray Cuney un grande commediografo americano per una serata di grande divertimento Teatro del Castello di Foligno altro ritorno prestigioso una compagnia che ha vinto tante volte al Festival di Pesaro che torna portando in scena La Calandra di Bernardo Dovizzi e poi i Giardini dell'Arte di Firenze che porta in scena un spettacolo molto particolare perché è tratto da un film un film di Federico Fellini La Strada quindi il circo che viene in scena al Teatro di Pesaro per concludere questo festival di cui siamo particolarmente orgogliosi Il ritorno a Rossini per il nostro festival è il ritorno a casa è il ritorno al primo logo nel quale c'era proprio la fila nei botteghini per andare a vedere le rappresentazioni è un teatro importante che fa tremare i polsi però che dà anche l'atmosfera magica del teatro che un teatro moderno non dà quindi le compagnie che abbiamo scelte sono tutte di primo ordine e avranno nel teatro Rossini una degna posizione un degno collochiamento Prosegue come da crono programma l'intervento di rigenerazione del manto erboso dello stadio Benelli che oggi ha avuto anche il sopralluogo del sindaco di Pesaro Matteo Ricci si tratta di un intervento da 900 mila euro per un terreno sintetico misto naturale di ultima generazione e anche per nuove panchine interrate che dovrebbero restituire alla Vispesaro il suo stadio nella seconda metà di settembre e invece torna da questa sera l'appuntamento con la festa dell'unità di Villa Fastigi fino al 3 di settembre nel giardino del Circolarci ci saranno sei giorni di politica spettacoli, debattiti e cucina tradizionale ambiente futuro e l'etmotiv della Kermess nella quale ci saranno anche occasioni di riflessione con la raccolta fondi per le popolazioni colpite dall'alluvione la scorsa primavera non mancherà la politica nazionale con un dibattito sul futuro del partito in programma il prossimo primo settembre con Stefano Bonaccini presidente dell'Emilia Romagna e presidente nazionale del PD e anche con la segretaria regionale Chantal Bonprezzi inoltre sarà allestito un banchetto per la raccolta firme per la proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo Una stella sotto le stelle questo è il titolo del concerto dedicato al baritone maestro di canto lirico Salvatore Sassu in programma domani 30 agosto a Pesaro nella chiesa dell'Annunziata l'appuntamento è alle 21 e vedrà la partecipazione di 30 cantanti lirici provenienti da varie parti d'Italia ed sarà dedicato al maestro Sassu nell'occasione sarà tributato anche un riconoscimento alla carriera del tenore Paolo Barbacini l'evento è organizzato dal circolo socio-culturale Maria Russi le immagini che invece vi mostriamo ora si riferiscono ai tanti pesaresi che questa mattina si sono messi in fila in Piazza del Popolo per ricevere i coupon gratuiti che consentiranno di partecipare alla maxi tavolata di 2024 Pizze Rossini prevista il prossimo 6 settembre in Viale della Repubblica un grande evento nel nome di una specificità culinaria pesarese in vista dell'evento di Pesaro 2024 gli ultimi coupon saranno assegnati il 2 e 3 settembre durante la mezzanotte bianca dei bambini e concludiamo il nostro notiziario occupandoci di sport con l'imminente partenza della edizione 2023 di Pesaro Challenge quest'anno allargata anche a Vallefoglia saranno tre giorni il venerdì 1 sabato 2 e domenica 3 settembre un weekend bello impegnativo ma ricco di novità in ogni location abbiamo inserito delle discipline e il villaggio il cuore pulsante della manifestazione è appunto la Palla di Pomodoro e Piazzale della Libertà dove per tre giorni siamo a presentare a dimostrare a coinvolgere le famiglie e i bambini che dopo l'estate alla ripartenza dopo l'estate vogliono provare e individuare lo sport che li appassiona di più anche cambiando e magari aggiungendo quando si parla anche di adulti che magari vogliono uscire da casa e fare qualcosa a livello sportivo quindi ci saranno delle attività anche in Baia Flaminia come la gara di nuoto in acque libere in mare e il plugging che è l'attività appunto che mette insieme sport e valori ambientali quindi si corre e si raccolgono rifiuti c'è l'atletica con tre giorni di eventi sul Nazario Sauro dove ci sarà il DJ set ogni sera per fare festa oltre che sfidarsi sulla pista anche in modo diverso divertirsi quindi l'atletica come non l'avete mai vista Baseball Five il baseball da strada in piazzale che d'annunzio dove il baseball è stato distrutturato quindi si chiama così proprio perché è diverso non si usa la mazza il campo è diverso si usa solo palla e voglia di giocare dalle grandi società sportive del grande sport di WL e Vis fino alle più belle piccole e grandiose società sportive del territorio che si promuovono nel periodo migliore dell'anno settembre dopo la pausa estiva Lungomare Nazario Sauro dove verrà allestita una pista di 90 metri di atletica leggera per l'evento il secondo evento Street Track Race in più avremo Viale Trieste quest'anno per la prima volta dove avremo una pista di bowling per la prima volta all'aperto perché è stata ideata da Sport Park in linea appunto con Pesaro Capitale Italiano della Cultura 2024 stiamo coinvolgendo i comuni della provincia di Pesaro e quest'anno saremo anche a Vallefoglia il 9 settembre nell'area antistante del palazzetto dello sport di Montecchio l'area sportiva più importante della città di Vallefoglia in cui troviamo il palazzetto del Paladio Nisi in cui troviamo lo stadio Spadoni in cui troviamo i campi da tennis quindi dopodiché durante il giorno tutte le discipline sportive stanno programmando le loro attività mi piace sottolineare molto il fatto che oltre alle discipline più comuni diciamo calcio basket pallavolo ci sono le esibisture di tante discipline il tiro con l'arco molto affascinante piuttosto che le arti marziali insomma ci sono tante le discipline che vedremo la paesistica la box insomma sono molte riempiremo penso tutto il parcheggio quindi una giornata importante dopodiché nel pomeriggio ci sarà anche con il dottor Marco Antonini una riflessione sullo sport l'importanza dello sport sappiamo bene che lo sport è socializzazione sappiamo bene che è benessere fisico e quindi molto importante ci saranno anche la primazione di alcune borse di studio per atleti meritevoli diciamo atleti che oltre a essere a primeggiare nello sport ma vanno bene anche a scuola quindi si può conciliare bene anche le due cose gli orari delle manifestazioni a Pesaro dalle 10 alle 24 gli orari invece del Valle Foglia Challenge 10.22 e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornali Rossini News come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che sarà dedicata alle 21.20 agli approfondimenti del gemellaggio tra la città di Pesaro e la città cinese di Kinhuangdao un gemellaggio rinsaldato da Comune e CNA di Pesaro Albino per ridare slancio a questo patto attraverso economia turismo e cultura e poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini domattina mercoledì 30 agosto come ogni mattina dal lunedì al sabato saremo in diretta a partire dalle 7.20 con le notizie dei quotidiani locali e il resto del Carlino cronaca di Pesaro e Corriere Adriatico e invece si conclude qui lo spazio informativo di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV e vi auguro e vi auguro